L'Evertec, un nef numero dell'Aus di Ladins. Prima piatta per Ghana, la rivista della Eles, che da un tratto di pausa l'ai nascuta da nef su internet, e per l'ospedale di Sanciana, che sera al reparto di nascimento. Sono in atto dell'attualità con la questione farsa del progetto sul plurilinguismo della scuola di Fassa, che assoceda Gran Bite Boite Val. E sempre su questo argomento, con la risposta del Presidente dell'Unione di Ladins di Fassa, a un post pubblicato su Facebook. Nossa vagamondes nemmeno a quest'auta al chowt dell'isola tropicale, a conoscere i moai e i simi steres. Tebadia e artesenni a scontrare un volc per resonare del progetto di promozione e marketing. La prima piatta di Fassa resona dell'alitazione per rinnovare il Consiglio del Comun General. e del Liber Sumazin presenta in Stadi. Gli insegnanti del Consiglio dell'Unione di Ladins di Fassa e la Medema Associazione, palesa sia sostegno alla scuola in con del plurilinguismo. L'erga ence sul buon esit della neva scomenzativa in Slug Ladin. Sono in atto con l'esperienza di Marco Florian a Chimondo e col concorso del retrato. Tella piatta della usch della scuola si è per l'eser di Neves Libres per la didattica ingegnata all'olfed e di studenci faccende robotica siccia a Milan per la finella nazionella del concorso First Lego League. E la scuola si resona in cedo con il Liceum d'Art e la scuola professionella di Ortisei che ha metto a girare il Dio dell'Ulsa Vert e con i gioi del Liceum Artistico di Ampezzo essi amostra sui fiori da Mont. Del sport taccone con l'hockey. Il presidente Roberto Ongari fesce il ponte della situazione alla fine della sazione. Ed ho vedono i risultati della squadra smendres. Sono in atto con le giochei. Ola che i South Tyrell Eagles si avva adegnato il titolo dei campioni della Teglia. Con i podi e sfascende la Brea gli esercizi risultati del pass long e del schialpinismo. Da zona veglia da Deus che sempre ha i risultati del schiettino Fassa. Fini un col ballone la squadra ma ora del Fassa ha perduto e cesa contro Alpine secondo un classifica. L'Aus di Ladins venforo ogni vender per 50 numeri salani e il costo perduto il 2000 Kines le demò 65 euro. Per info e abbonamenti potete vi augurare la redazione di Fassa. Telefon 0472 747445 mail laus sniecola ladinsdefassa.it